e salve a tutti oggi parleremo di un grande autore Dante Lighieri forse non ha neanche bisogno di presentazioni ma cerchiamo di divulgare un po di cultura Dante Lighieri nasce nel 1265 e muore nel 1321 andiamo a vedere un po i particolari della sua vita diciamo che è un luogo comune quello che fosse povero nasce tra il 21 maggio e il 21 giugno del 1265 a Firenze lo dice lui di essere del segno dei gemelli non si sa bene la data precisa si conosce la data del battesimo i genitori erano alighiero degli alighieri o al deghiero degli aldighieri insomma a seconda dell'epoca una diversa grafia e costruzione del nome del cognome e bella degli abati il padre esercitava il mestiere di cambia valuta e secondo alcuni le male lingue era un usuraio la famiglia godette di una certa agiatezza e Dante poté dedicarsi ai suoi studi senza problemi diciamo che secondo alcuni studiosi il fatto che ci sono ancora degli atti in cui Dante diciamo intenta dei processi ci sono dei processi intentati contro Dante dei pignoramenti delle sue proprietà può darsi che fosse anche una strategia dell'epoca per fermare una parte del patrimonio che era molto consistente quindi una strategia dei due fratelli Dante aveva un fratello di nome Francesco era quella appunto di immobilizzare alcuni beni e si intentavano false cause con falsi creditori che congelavano una parte degli averi sembra infatti che Dante oltre alla casa Firenze possedesse la famiglia di Dante diversi appunto appartamenti quelli che chiameremo oggi appartamenti case e diciamo tenute di campagna quindi l'attività di Dante stimata ai giorni nostri potrebbe essere quella della rendita di un medio professionista che può godersi la vita senza dover lavorare materialmente ecco per inquadrare il secolo naturalmente non tutti gli avvenimenti sono contemporanei a Dante perché Dante è a cavallo tra i due secoli un po' come noi appunto che ne celebramo i 700 anni nel 2021 Dante muore nel 1321 e diciamo assiste ad alcuni di questi avvenimenti ma sicuramente vede le tensioni e le situazioni che li hanno innescati questo lo vede in pieno la crisi della chiesa nel 1309 la sede papale viene trasferita ad Avignone in Francia quindi abbiamo un papa a Roma un antipapa ad Avignone ognuno dei quali dice che l'altro papa è l'anticristo e quindi una situazione di grande incertezza dal punto di vista religioso e quindi la cristianità si divide si vedono tutti gli interessi appunto della casa francese che vuole un suo papa e vuole diciamo maneggiarlo come se fosse un suo feudatario quindi il potere del papato riceve un grandissimo scacco ma come insomma il successore di San Pietro tenuto diciamo in in prigionia ad Avignone insomma servo di un re del potere temporale ma insomma come è possibile nella società medievale così come che riteneva appunto uno e l'imperatore il sole e la luna il papa è la luna il sole l'imperatore o viceversa insomma a seconda del di chi era guelfo o ghibellino e diciamo questa immagine accompagnava l'idea di un papa che non poteva sbagliare qui invece ci si rende conto che il papa è un essere umano e come tale appunto pieno di sbagli pieno di errori e infatti dante colloca il diciamo un sacco di papi all'inferno e diciamo elabora per molti religiosi il peccato di simonia cioè di vendere i doni dello spirito santo come faceva simone il mago assistiamo a un passaggio importantissimo tra i liberi comuni organizza con un'organizzazione meticolosissima alle signorie cioè una grande famiglia del contado che riesce poi ad impadronirsi del governo cittadino come in questa foto appunto i gonzaga a mantova e per nobilitare le sue origini per tacitare le guerre civili per aglietare il popolo si circonda di letterati poeti musicisti e rende le corti qualche cosa di meraviglioso quindi lo sviluppo delle signorie porterà in italia a quello che poi noi chiameremo il rinascimento l'esaltazione della cultura dato che si doveva accettare tra virgolette la dittatura del signore diciamo era meno dura se si ammorbidiva con l'arte con la cultura con la letteratura e con tutte queste cose così belle e così interessanti ecco anche un secolo di carestie peste e guerre queste non ha assistito dante però probabilmente c'erano già delle situazioni precarie dal punto di vista appunto della sanità delle disagi legati a malattie e ricordiamo il 1300 un periodo di in cui si perde l'ottimo climatico e si va verso una una piccola era glaciale con inverni molto freddi e rigidi ed estati molto brevi che portano una moria nei roditori il fatto che i pochi rimasti si avvicinino alle città e questo fa sì che le pulci dei roditori poi si avvicinino all'uomo trasmettendogli la peste e le altre malattie è un secolo di guerra ricordiamo la guerra dei cento anni dal 1337 al 1453 durata addirittura più di cento anni il cui esito finale appunto è la vittoria della francia sull'inghilterra e diciamo come evento da ricordare simbolico il processo a giovanna d'arco prima grande condottiera e favorita del re poi caduta in disgrazia è divenuta una strega e al suo braccio destro gil de re prima grandissimo feudatario promotore appunto della guerra aiuto e braccio destro di giovanna d'arco poi stregone cannibale e chi più ne ha più ne mette un mostro veramente processato e ucciso tradizionalmente dante lo si raffigura vestito di rosso con una tonaca rossa che rappresenterebbe il fatto che dante per il suo interesse alla politica e per poter partecipare al governo di firenze doveva essere praticamente iscritto ad un'arte o cosiddetta poi in seguito corporazione che prevedeva quindi un'iniziazione un passaggio di grado e la conoscenza dei rudimenti dell'arte poi questo all'inizio poi praticamente a tutti si concedeva naturalmente per motivi appunto politici l'ingresso in un'arte o corporazione dante sceglie appunto la corporazione dei medici degli speciali e probabilmente la prerogativa dei medici degli speciali era questa clamide rossa con cui lui è vestito ricordiamo che però all'interno della corporazione c'erano anche i cartolai ad esempio quindi venditori di papiri di carte di quello che serviva per diciamo commerciare questo materiale secondo alcuni dante per le conoscenze progredite che aveva nelle descrizioni dell'inferno dell'anatomia umana forse aveva anche studiato medicina allora l'itinerario non era così rigido come adesso oppure poteva essere semplicemente anche lui darci ad attività di commercio di carta visto che è stato un grandissimo scrittore e poeta il suo maestro fu brunetto latini quel brunetto che poi lui colloca l'inferno tra i sodomiti adesso per i diritti lgbt questo girone dovrebbe venire appunto chiuso o rimodernato ecco questo mi dà l'occasione per parlare un po della cultura di dante che secondo l'epoca appunto la cultura non era molta cioè non era un'epoca siamo ancora nel periodo medievale diciamo gli studi elementari e delle medie erano affidati a un magister puerorum che viene spesso raffigurato con una frusta quindi ci si può immaginare quale pedagogia si andasse incontro in quel periodo diciamo chi voleva poi intraprendere studi liceali e superiori si doveva legare alla figura di un maestro lui insomma pregiungiamo che fosse abbastanza abbiente e stipendiava il notaio serbrunetto latini quest'uomo viene raffigurato nell'inferno con una certa dolcezza e l'uomo che insegnò a dante ad eternare la vita dell'uomo con questo bellissimo verbo eternare come l'uomo setterna probabilmente si sottende che insegnò a dante al di là della sua stessa materia diciamo l'idea fondamentale quella di ottenere l'immortalità attraverso le opere infatti brunetto scrive il tesoro tesoretto in lingua francese il merito di dante di aver capito che per guadagnarsi l'immortalità in italia bisognava scrivere in volgare e sceglie il volgare fiorentino facendolo poi diventare per il prestigio suo di boccaccio e di petrarca la lingua nazionale e poi per la scelta di manzoni alla fine di sciacquare i panni in arno la lingua del futuro regno d'italia ma questa è un'altra storia ecco qui ho rappresentato una gentildonna probabilmente dell'epoca matrimonio con gemma donati all'epoca l'amore come lo concepiamo noi era un sentimento irrazionale come una malattia che penetrava dagli occhi e possedeva come quasi una possessione demoniaca l'essere umano che si ammalava d'amore quindi al pari della licantropia di altre malattie veniva guardata con una certa soggezione quindi quello che si consigliava ai giovani era di far sbollire questi spiriti che entravano dentro letteralmente dagli occhi alla vista di una bella donna di un bel uomo e di procurarsi un matrimonio attraverso i genitori che erano più sicuri più stabili e avevano l'interesse appunto al denaro ecco il matrimonio non fu sicuramente felice fu un matrimonio con una famiglia di un livello più alto i donati che sembra che abbiano dato una dote bassa alla figlia proprio per questo motivo quindi famiglia ricca illustre nobile e dante deve subire un po i dettami di questa famiglia che gli impone quindi una rendita minora e dice così me la cavo agevolmente e dall'unione dante avrà tre figli jacobo pietro ed antonia che daranno il via alla discendenza appunto diretta ed indiretta di dante il più grande amico di dante era appunto guido cavalcanti grande poeta con cui si scambiava pensate appunto alla novità dell'epoca delle poesie d'amore cioè amore visto come questo demone questa creatura intermedia tra l'uomo e gli dèi che visto appunto come un essere sovrannaturale che entra dentro le persone le sconvolge dall'interno e quindi questa cosa era studiatissima all'epoca perché era ritenuta un fenomeno direi paranormale qualche cosa che minava la società stessa e che dava quella cosa bella appunto l'innamoramento quella cosa quasi uno stregamento un incantamento e quindi i poeti che erano i nobili ricchi quelli esentati dalle fatiche materiali si scambiavano tra di loro poesie che riguardavano appunto l'amore dante ovviamente parlava di beatrice allora qui non possiamo non citare il de amore di andrea capellano che compone un trattato destinato al pubblico laico delle corti feudali per il vero amore l'amore extra coniugale extra matrimoniale che non conosce gelosia e può svilupparsi in una società ricca di agi e raffinata quindi il vero amore è quello cortigiano che si sviluppa tra due persone ormai già sistemate e quindi può essere un sentimento purissimo e disinteressato come dante infatti collocherà tra i più gravi dei peccati il tradimento dei benefattori dove non c'è nessun legame di parentela tra il benefattore e la persona e quindi è il peccato più grave così l'amore più bello è quello dove non c'è alcun legame quindi può essere un amore un sentimento purissimo che lui ovviamente il suo cuore batte per beatrice una ragazza incontrata all'inizio della sua vita nella festa del primo maggio quando avevano otto sette otto anni lui si innamora come si può innamorare un ragazzino di una ragazzina dei begli occhi del colore della pelle del di un bel vestito di un sorriso e così e poi la rincontra nelle sue passeggiate sul lungo arno a 17 anni donna già fatta e lui appunto è imbarazzatissimo perché questo amore lui l'ha coltivato dentro di sé ecco beatrice portinari il suo vero nome sposata con il potente simone dei bardi un banchiere conosciuto ad una festa all'età di otto anni la rincontra 17 anni donna fatta e sposata con questo potente signore purtroppo beatrice muore prematuramente nel giugno del 1290 e lascia dante completamente nello sconforto in una tristezza esistenziale che lo spinge ad approfondire i suoi studi e quindi a diventare un vero e proprio diremmo professore universitario perché non gli bastano gli studi liceali compiuti diremmo noi liceali con brunetto latini ma si avvicina allo studium di bologna e si avvicina appunto a coloro che detenevano la sapienza più alta la teologia e la filosofia quindi frati francescani e studia con loro le diciamo sfere più alte del sapere compie uno studio completo a livello appunto universitario e questo sapere lo riversa completamente nella divina commedia dante i classici è un rapporto bellissimo la divina commedia è piena di riferimenti alla classicità a parli centauri minotauro arpie creature fantastiche adattate appunto alla mitologia del grande poema quindi esseri che prima erano esseri sulla terra diventano demoni mostri custodi creature che aiutano dante e virgilio creature di una fantasia sbrigliata bellissime insomma questo suo rapporto con la classicità e lui aveva una passione incredibile per virgilio con cui condivideva alle varie descrizioni sentimenti e tutto il resto e lo pone come sua guida nell'inferno virgilio è il simbolo della ragione umana che può arrivare fino al paradiso terrestre ma poi laddove la ragione non c'entra più ci vuole la fede l'illuminazione della grazia dante come vediamo in questa immagine dove percorre appunto la bolgia dei barattieri ovvero quelli che si impossessano di denaro pubblico la baratteria il 27 gennaio del 1302 viene condannato per il reato di baratteria ad una multa di 5.000 fiorini d'oro e al confino per due anni il 10 marzo non essendosi presentato per discolparsi probabilmente aveva paura di essere assassinato viene condannato a rogo i suoi beni confiscati dante non tornerà più a firenze e subirà l'amaro colpo dell'esilio durante l'esilio compone la divina commedia suo capolavoro dante non si perde d'animo e durante gli anni d'esilio lavora come segretario presso diverse corti e principati e compone il suo capolavoro assoluto la divina commedia i tre peccati di cui dante fa outing sono appunto la superbia la lussuria e l'avidità superbia certamente un poeta che ha un così grande sapere non poteva non essere anche una persona in un certo senso superba e sprezzante del popolaccio della gente che si dedica a cose vane e futili come ritroviamo spesso nella divina commedia la lussuria l'amore appunto carnale delle belle donne la sua passione c'è sempre stata e l'avidità anche nelle cariche ricordiamo che dante divenne priore di firenze ma questa carica lo fece precipitare nella disgrazia la divina commedia è composta secondo i critici tra il 1304 1307 il 1321 negli anni del suo esilio in lunigiana in romagna la commedia è il capolavoro di dante è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo morte il podestà di ravenna guido novello incarica dante di un'ambasceria a venezia e il poeta contrasse la malaria mentre passava per le paludi di comacchio poeta morì a ravenna nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321 nel 1780 gli venne costruito un tempio su tempi e diciamo tombe precedenti in onore suo dall'architetto camillo morigia un tempio in stile neoclassico ovviamente e così finisce il cammino mortale di dante ma dante davvero ha conosciuto come diceva ser brunetto la capacità di eternarsi attraverso le sue opere che andremo con il tempo ad analizzare grazie della pazienza e grazie dell'ascolto grazie